secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie all'uno ciao faba ciao bello andiamo all'uno proviamolo all'uno ciao faba grazie dei 36 tre anni bro saluto gazzi ciao gazzi si ovvio già merda penso a frank che attacca doxxar loffi giallo 39 mesi ed è giusto però secondi secondi va bene va bene va bene va bene va bene è giusto raga che musica ascolto io la trap io 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 vengo dalla strada bro nonostante tutto io ce l'ho fatta vivo la mia vita non sento la disfatta buongiorno wanted si va a sant'angelo di gianni in concerto figa sono il bro della mia gang allora mani dritte dieci allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici basta 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 che poi mi ammazzo contro gli schermi adesso parece Pia 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 perché dovevo andare Angelo Ciao tornato lui ancora ciao simon ciao bello merda quella fottuta puttana di tua madre grande leccatrice di palle scrotali di persone non conosciute spero che oggi faccia lo sconto quindi innanzitutto ci tengo a salutare a darvi il buon pomeriggio a tutti grazie per essere qua a divertirvi insieme a me io ragazzo lo dico sono gasato lo casato perché aveva fatto vedere delle robe a te come siete completamente pazzi vi dico solo che c'è una palazzina a vetri enorme ed è tutta per me quindi fate conto che l'ultimissima challenge è al diciottesimo piano ce ne sono altri viviani quindi non vedo l'ora di cominciare spero che anche voi vi divertiate insieme a me e che cosa succederà come vi ho appena detto insieme andremo fisicamente in varie stanze a fare queste challenge livello dopo livello mentre finito e arrivato al livello finale ci posteremo su una postazione da streaming che vi hanno preparato e andremo a giocare altre challenge una mappa dedicata su quattro e che hanno fatto in critico porco di quel porco porco di quel porco quanti mischi ho fatto eravamo 549 su 550 no porco cazzo questa è quella buona comunque questa mappa vuole diventare difficile cosa succederebbe in ok come funziona i wrap semplice nella parte superiore c'è un pod questo si chiama pod è aromatizzato con aromi 100% naturali 100% naturali voi lo mettete qui tirate su fino al limite non potete sbagliare bevete bevendo ragazzi il vostro olfatto retronasale farà credere al vostro cervello che quello che state bevendo non è acqua avete ragione ragazzi è proprio acqua prendete riempite la vostra borraccia con acqua normalissima acqua normalissima chiudete bevete in questo caso il mio pod è il raspberry è un nuovo is bello ricordi che qua sei nel mio di paese ricordatelo bene abbia rispetto per le mie cose visto che sei te a venire qua andiamo mentaliti il mickey sottolineatura tre mesi shu puoi salutare la 2b certo mickey saluto la seconda b ciao bro come va mentaliti sabato ero proprio nel suo ufficio easy e gli ho fatti tutti i piani guardate che io ve le dico in faccia le cose non vedete di rompermi i coglioni perché le dico non mi vado ad affanculo andiamo guardate che stanno bene guardate che stanno bene guardate 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 quando sono dei pezzi quello più vecchio c'è Cazzo Maledizione maledizione era stunnato. Maledizione Maledizione l'avevo stunnato maledizione alla merda Oddio è vivo. Oddio sono riuscita a tirarla su Ciao Ale Io io Ale sottolineatura tre mesi Io ho un buon giorno Io ho ho ciao Ale Puoi salutarmi un mio amico che si chiama Zarpo? Grazie Sì certo Ciao Zarpo Ciao bro Me lo sto chiedendo anch'io Vattene 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 Eh vattene Che sta facendo Cristo Dio Dai dai bro Ma io godo che t'hanno chillato Ma io godo figlio di puttana Mi seguo sulla sua tomba Coglione Ti sborro nella porco diaz Di corona di fiori Pezzo di merda La nuova batteria La nuova copertura della batteria Quella con tutta la piovra Buongiorno Luca Tutto bene? Buongiorno 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 ragazzi Facciamo l'ultima resistenza Vado in questo bush e mi mangio gli oreo Capite quello che dice Nettuno? Nettuno suppone che prende gli oreo Sì Li apri a metà L'oreo si mangia così raga Lo pigli No Xiu Lo guardi e dici Ciao bello Aspetta No Xiu ma non si mangia così Vaffanculo Pezzo di merda Bastardo di merda Grazie a tutti